L'Arezzo costa in media una gestione di 1.800.000 euro, il Presidente in questo momento ha un passivo di bilancio di circa 800.000 euro che giustamente paga lui e che da qui alla fine dell'anno ha già iniziato cospicuamente a mettere dentro questa società, costa almeno 800.000 euro l'anno tenere una società di calcio come l'Arezzo, ma sicuramente non è uno stato d'animo sereno e tranquillo perché comunque sta facendo molti sacrifici e tantissimi sacrifici per continuare a quella speranza che è di tutti noi che l'Arezzo possa continuare anche nei prossimi anni. Nuovi soci è la parola forse non giusta.